Ha passato momenti difficili, ma ora sta meglio Lele è spedicato, chitarrista dei Negramaro, in questi giorni è tornato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stato curato a seguito dell'emorragia cerebrale che lo ha colpito lo scorso settembre Lele è andato a trovare i medici, gli infermieri e tutto lo staff che lo ha accolto e lo ha accompagnato fino a quando è stato dimesso, la visita è stata raccontata dallo stesso chitarrista in un post su Instagram Sono loro i veri supereroi, grazie infinita a tutto lo staff medico del Vito Fazzi di Lecce PS nella foto mancano molti di quelli che mi hanno aiutato a superare quel mese indimenticabile, Lele ora sta affrontando la riabilitazione, sta bene ma deve stare a riposo È per questo motivo che non è potuto partire alla volta di, amore che torni tour, insieme ai suoi compagni di viaggio Anche se ha allietato i suoi fan con qualche piccola apparizione a sorpresa, les block ads, why?